ben ritrovati il nostro spazio dedicato ai diritti dei cittadini come sempre siamo in diretta insieme all'avvocato Pierpaolo Rodighiero bentornato avvocato responsabile del Codacons. Bentrovati benvenuta e benvenuta anche bentornata alla dottoressa Marielle Eppolito responsabile della Compile Cosenza. Buon pomeriggio a tutti. Questo comincia ad essere un periodo impegnativo perché cominciamo con le dichiarazioni dei redditi anche se c'è il 730 precompilato però a proposito di questo ci chiedono per quanto riguarda la detrazione delle spese non sanitarie queste compaiono al 730 precompilato le altre spese come ad esempio gli interessi sui mutui. Lì praticamente va modificato qualora non vengono riportate delle spese che siano magari sanitarie e non sanitarie bisogna portare delle modifiche alla dichiarazione precompilata che viene messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate per cui naturalmente si può verificare e apportare delle modifiche prima di procedere all'invio perché naturalmente se si accetta così com'è molte spese non vengono conteggiate per cui naturalmente vengono poi perse la percentuale che si può recuperare. Per cui io consiglio sempre qualora non diciamo si riesce a procedere in autonomia con il proprio speed di rivolgersi ai CAF abilitato oppure ad un professionista abilitato con tutta la mole dei documenti che sono detraibili e deducibili e poi naturalmente verificare, completare, modificare la dichiarazione per poi procedere all'invio perché altrimenti se ci sono delle spese che non sono riportate e si accetta così com'è naturalmente parte delle spese che si potrebbero recuperare vanno perse. Vanno perse quindi non si possono recuperare. No se si accetta così com'è la dichiarazione precombilata ci si rende conto che ci sono delle voci che non sono state popolate o si modifica in quel caso diciamo la precombilata subisce una variazione oppure si deve rinunciare perché se non vengono inserite forse volte anche diciamo le spese per quando riguarda lo sport dei figli naturalmente questi ci rendiamo conto che molte volte non vengono riportate. Ricordiamo sempre pagamenti tracciati quindi non contante perché non tutto ciò che si porta in detrazione va bene il contante. Ci sono determinati pagamenti che possono essere portati in detrazione solo se tracciati quindi con pagamento elettronico. Per esempio per le visite specialistiche invece? Visite specialistiche bisogna capire se fatti in una struttura ospedaliera pubblica va bene anche il contante altrimenti se fatta presso un professionista privato bisogna necessariamente tracciarlo tipo il dendista, l'oculista, il pediatra, il ginecologo. Se naturalmente non proviene da struttura pubblica allora in quel caso è necessario il pagamento con modalità elettronica. Invece per quanto riguarda gli scontrini il pagamento in farmacia ancora si accetta il contante ma deve essere il parlante. Con lo scontrino perché comunque chiaramente riporta il codice fiscale diciamo dell'assistito quindi va ancora bene anche il contante. Io sto vedendo avvocato questi sono un po' di bonus mi sono stampato un po' di bonus che ci sono per il 2024. sembra un libro. A prima vista insomma ci sono tanti aiuti per quanto riguarda le famiglie, i dipendenti, per quanto riguarda le mamme eccetera eccetera. Nel concreto avvocato ci sono poi dei benefici effettivi per tutta questa platea di persone? Tra poco ne parleremo di qualche bonus per il 2024 però il mio dubbio è questo. Allora quando si emana un provvedimento soprattutto di origine pubblica come nel caso dei bonus ci vuole la copertura economica. Ovviamente la copertura economica c'è un plafondo nel senso che se una copertura ha 100 milioni di euro ovviamente al raggiungimento dei 100 milioni di euro gli altri rimangono fuori ovviamente perché ci vuole la copertura finanziaria. Certo. Molti di questi bonus sono caratterizzati da che cosa? Che vengono corrisposti sì però poiché come sempre la richiesta di bonus è maggiore dell'offerta poi si va a scalare nel senso che chi fra virgolette ha più bisogno ha meno reddito vedremo riuscirà a farlo. A fronte di ciò ci sono anche degli interventi tipo 2024 hanno licenziato ancora una volta sappiamo periodo di mutuo difficoltà ad accesso al credito. Per tutti i dipendenti pubblici e statali ci sono i finanziamenti che fa l'Inps fino a 300 mila euro per l'acquisto di prima casa per la ristrutturazione con tassi assolutamente introvabili dei comuni cittadini. Addirittura per i dipendenti Inps il tasso di riferimento è l'1%. Non voglio che osare ma voglio ricordare che l'Inps si mantiene con versamenti pubblici cioè i contributi dei dipendenti quindi diciamo non è un ente privato per dire e quindi sono dei tassi che noi comuni cittadini non potremmo mai sognarci di arrivare però esistono anche però quello sono dovremmo aprire ecco diciamo una discussione su questo nel periodo di difficoltà di questi anni di economia quindi ci sono i giovani che non riescono a accedere a mutui perché non hanno garanzie ci sono tantissimi giovani che hanno lavoro e intermittenza per cui è una difficoltà immane accedere a pochissimo mutuo figuriamoci per l'acquisto prima casa e quindi ci sono tutte queste diseconomie che praticamente rendono la socialità sempre un poco ballerina nel senso che non trova stabilità quindi non sono anni di stabilità economica soprattutto per le famiglie certo e veniamo poi da questo periodo del covid insomma che ha veramente messo in ginocchio famiglie e imprese è stato devastante insomma ne abbiamo parlato tante volte le difficoltà delle imprese insomma si speravano dopo la fine dell'emergenza pandemica in una ripresa esplosione che non c'è stata perché lo stiamo vedendo la diatriba che c'è che mette in pericolo milioni di persone migliaia di imprese per quanto riguarda il bonus 110% per cui ci sono lavori che probabilmente non verranno pagati e quindi i cassetti fiscali non verranno pagati, pagati dallo Stato agli aventi diritto che sono coloro che hanno anticipato i soldi per effettuare i lavori e così come tante altre misure ci sono ancora delle aziende che aspettano i benefici covid ci sono alcuni di questi bonus che andremo ad enucleare praticamente sono ancora del periodo immediatamente post covid che ancora non sono stati elargiti per cui vediamo che dal periodo di difficoltà tragico ancora non si è riusciti a trovare un equilibrio ed è vero quindi i bonus hanno un senso se sono d'immediata sia percezione che erogazione tenere saldi i posti di lavoro ma come con la decontribuzione se però questa decontribuzione non è immediata e le aziende che hanno subito il post covid naturalmente a quest'ora sono chiuse hanno messo in cassa integrazione è finito l'ammortizzatore sociale molte sono fallite sempre perché diciamo le misure che vengono adottate devono però essere in tempi brevi perché l'economia non ha tutto chi vive di ciò non può aspettare diciamo anni perché altrimenti significa chiudere questo è ma questo lo si sappia che molti sono attaccati lo stiamo vedendo ne parleremo fra poco l'assegno di inclusione c'è gente che sono mesi che sta aspettando di avere 350 euro al mese ma dal primo gennaio 2024 a oggi che siamo ad aprire questi di che cosa hanno mangiato mangiano che cosa perché questi 350 euro ricordiamoci che sono veramente niente veramente alla miseria però diciamo un panino al giorno se lo possono comprare qui sono quattro mesi che non lo so dove vanno a mangiare è certo appunto ecco le diseconomie sono queste sono queste cose qua che poi dicono cioè di che cosa vogliamo parlare no no nel in linea di principio in linea generale perfetto insomma tu formi le persone per introdurle nel mondo del lavoro formate chiaramente però se tu non fai partire questi corsi se non dai la possibilità non le persone che vogliono lavorare cioè perché ci sono cioè è la stragrande maggioranza delle persone che vuole trovare un'occupazione stabile e guadagnarsi il proprio stipendio questo lo dobbiamo dire ma a che punto siamo? il paradosso è che le persone che sono state riconosciute meritevoli di questa misura a queste persone non viene sospeso il pagamento delle utenze ma uno gliele regala sì ma se pensiamo con l'aumento che c'è stato dei prezzi delle varie utenze quindi più che raddoppiato è uno la bolletta della luce come fa a pagarla? la bolletta del gas come fa a pagarla? e i tributi che i comuni stanno andando a fare pignoramenti e quant'altro per la riscossione dei tributi? e qui bisogna vedere un attimo bisogna capire bene cioè mandare e far pagare a tutti nella stessa misura e naturalmente sappiamo benissimo che in questa società pessima che abbiamo non tutti sono uguali perché chi ha 5 mila euro al mese di stipendio ovviamente è diverso da chi ne ha 800 quindi far pagare allo stesso modo con uguale aliquota uguale prezzo a tutte e due capiamo bene che è una diseguaglianza palpabile perché sono diverse le condizioni quindi non è vero che tutti sono uguali forse forse di fronte alla legge però non di fronte alla sanità perché chi ha soldi si cura, chi non ha soldi può morire non di fronte alla pubblica amministrazione eccetera eccetera certo a proposito di questo assegno di inclusione insomma che ha sostituito il vecchio reddito di cittadinanza 350 euro al mese però bisogna fare questi corsi di formazione allora dobbiamo fare una differenza tra quello che è l'assegno di inclusione che praticamente è una misura che è un po' simile a quello che abbiamo lasciato il reddito di cittadinanza perché per il solo fatto di avere in presenza o disabili oppure persone che hanno superato hanno con più di 60 anni o hanno minori nel nucleo rientrando con i requisiti economici perché bisogna naturalmente avere un ISEE che sta sotto i 6 mila euro eccetera eccetera hanno diritto ad avere questo sussidio economico bisogna fare la differenza invece con l'SFL, il sistema formazione lavoro che è la misura che è stata studiata per tutti quelli che sono ancora collocabili al lavoro naturalmente questi stanno avendo la difficoltà maggiore perché mentre quelli con l'assegno di inclusione, il sussidio economico un po' come era il vecchio reddito di cittadinanza lo stanno percependo quelli con la formazione stanno facendo tutta la procedura che bisogna fare stanno facendo la domandina, vengono chiamati dal centro per l'impiego dai servizi sociali per fare la profilatura vengono inseriti, diciamo a scelta fra i diversi corsi disponibili in uno di questi corsi di formazione però poi si blocca tutto perché se il corso di formazione non parte o è pieno o bisogna aspettare o non è disponibile naturalmente il soggetto la misura non la percepisce intanto abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Buon pomeriggio, Salvatore da Cosenza Benvenuto intanto, prego In primis volevo ringraziarvi per questa bellissima trasmissione perché finalmente è una trasmissione dove non ci sono litigi ma semplicemente c'è tanta cortesia, eleganza Isabella noi ci conosciamo da tanti anni però se adesso non so, basta la trasmissione La tua eleganza assomiglia a quella di Katrin Spack Oh, troppo buono, grazie Possiamo chiudere la trasmissione Possiamo chiudere Grazie, grazie di cuore davvero La dottorezza Di Polito è l'avvocato Rodighiero che conosco di persona una splendida persona Grazie, grazie Grazie di cuore Ci fa veramente piacere Grazie a voi È bello perché è andata nelle nostre case con garde d'eleganza quindi vengono trasmissioni di questo genere Allora, sono molto breve perché so che lo chiamate sono tante Allora, la mia domanda non so se può centrare ma io provo a farla Allora, in pratica volevo sapere se ci sono dei bonus per quanto riguarda luce e gas per persone che più o meno hanno viaggiano sugli 80 anni e siccome volevo proporla al mio amministratore di condominio che un pochino dorme quindi io so che ci sono tanti bonus ad esempio se tutti gli appartamenti versano verso un unico fornitore ad esempio se ci sono delle offerte ecco, quindi se ci sono dei bonus anche per i condomini Perfetto, bella domanda questa insomma, ci sono questi bonus per luce e gas se uno sceglie lo stesso fornitore per chi ha Bisogna, allora la problematica è quella condominiale perché adesso come ci dice la dottoressa Ippolito adesso c'è i bonus luce e gas bisogna andare a vedere il fornitore unico cioè tutti i fornitori sono soggetti alla legge per cui indipendentemente se uno o l'altro sono soggetti alla legge chi usufruisce del bonus quelli che sono operanti in Italia devono congerlo con la riduzione che naturalmente è lo Stato che paga loro quindi non è il gestore che ci rimette qualcosa bisogna andare a vedere perché ci sono molti condomini che hanno il contatore unico naturalmente il contatore unico va naturalmente soltanto per le forniture delle parti comuni e lì naturalmente non si può fare niente ci sono molti condomini che hanno una sola gestione a contatore acqua che poi viene ripartito forfettariamente e quello diciamo ha una contabilità propria per quanto riguarda luce e gas naturalmente no se non nell'ipotesi in cui se ancora sono residuati i condomini che hanno per il riscaldamento se ci fosse una caldaia a gas quelle condominali allora il nucleo familiare che usufruisce del bonus gas lì bisognerebbe andare a fare una ripartizione perché la famiglia naturalmente se è il bonus gas deve prendere pagare di meno perché è proprio la legge che dà questo beneficio nella vigenza di requisiti di legge che ora l'oltre sippolito vi spiega ricordiamo velocemente quindi anno 2024 sono stati riconfermati i bonus luce e gas assolutamente sì è cambiato il limite ISE perché fino al 2023 era stato naturalmente erogato fino ad un tetto massimo ISE parliamo di 15.000 euro da gennaio 2024 è stato riconfermato però il tetto ISE scende a 9.560 euro per cui naturalmente rientrano tutti i nuclei familiari con ISE attestato da gennaio 2024 che rientrano in diciamo in questo limite in questo valore economico quindi molti infatti ricordavano la riconferma con la soglia o dei 12.000 o dei 15.000 purtroppo al momento è stata riconfermata con diciamo con l'ISE a 9.560 massimo perfetto noi ringraziamo non so se grazie buon pomeriggio grazie per le belle parole comunque grazie di cuore puoi essere paragonata a Catherine Spacco scusatemi grazie grazie sorridiamo sempre chiaramente perché anche se davvero in questa trasmissione ci occupiamo di tanti problemi che ci vengono segnalati dai cittadini cerchiamo sempre di sdrammatizzare portare un po' di leggerezza portare un po' di leggerezza però i problemi sappiamo perché ce lo raccontate voi perché anzi noi vi ringraziamo sempre perché ci raccontate quello che quotidianamente vivete quello che quotidianamente molti nuclei familiari vivono la difficoltà per tante persone quella di arrivare non alla quarta settimana non alla terza alla seconda non si arriva più non bastano le pensioni anche se mesi scorsi si parlava l'aumento delle pensioni aumento che non c'è stato c'è stato un adeguamento istat quindi anche come vengono riportate queste misure la socialità è stata molto svalutata nel senso che l'universalizzazione dei diritti adesso è svanita quindi non è vero che tutti abbiamo gli stessi diritti ricordiamo comunque che ancora perlomeno funzionano delle norme di legge per cui molta gente ha rinunciato in questi anni a curarsi ma per la sanità ricordiamocelo nonostante le liste d'attesa vi sono varie misure che praticamente possono riportare a tempi più ragionevoli massimo 30 giorni per avere una visita ci sono dei modellini che bisogna compilare che praticamente obbligano la struttura pubblica effettuare la visita se non nei casi più gravi di immediatezza della domanda di sanità anche rivolgersi in via d'urgenza al giudice della previdenza che emana dei provvedimenti d'urgenza per cui ricordiamocelo è miserevole che un cittadino si debba debba rivolgersi a queste per legge misure perché il pubblico che è l'unica il front office del cittadino risposte non ne dà al cittadino poi che manca personale manca un investimento eccetera eccetera non avendo i soldi per andare privatamente o andare in altre strutture ovviamente poco importa ma è giusto che sia così chi non riesce a portare il pane a casa non si può preoccupare delle motivazioni sindacali del personale della sanità sacrosante no però il cittadino che non ce la fa arrivare a fine mese vuole sanità anche perché è un effetto boomerang chi rinuncia a curarsi perché non ha i soldi è un appesantimento ce lo ritroviamo ricoverato quindi una volta trovato ricoverato il sistema sanitario nazionale spende dieci volte di più per cui ecco ci vuole una rivisitazione seria a tanti cittadini che magari rinunciano poi a fare rinunciano a fare prevenzione soprattutto perché spesso e volentieri già per casi gravi le liste sono molto lunghe figuriamoci per fare prevenzione cioè uno che prevenzione fa cioè che cosa che prevenzione fa però questo prima di salutare chi è in linea intanto pronto? pronto? salve da dove ci chiama? da Cosenza benvenuto io volevo fare solo questo appello insomma vorrei vabbè lo faccio dopo prego vorrei fare da Cosenza prego prego vorrei fare una domanda alla dottoressa sì riguardo l'Adi allora io percepisco l'Adi però mi hanno chiamato riguardo del programma GOL sono sono compatibili le due cose allora intanto le chiedo il suo modello ISE si compone solo da lei oppure ci sono altre persone nel no c'è mia figlia minorenne di tre anni lei e sua figlia sette anni perfetto quindi lei comunque si trova in un'età collocabile al lavoro lei ha fatto la richiesta dell'assegno di inclusione perché ha il minore nel nucleo rimane il fatto che e non è solo per lei che vige questa diciamo regola fra virgolette ma se nel nucleo familiare ci sono persone che comunque sono in età collocabile al lavoro è normale che poi vengono convocati dal centro per l'impiego per fare una sorta di curriculum e di profilatura in base alle attitudini della persona quindi al titolo di studio alla formazione alle esperienze professionali poi viene naturalmente anche per lei deve essere naturalmente fatta la formazione e quindi rientra poi nel programma GOL certamente che è compatibile perché è vero che c'è un sussidio che a lei spetta perché c'è il minore nel nucleo ma essendo comunque in un'età collocabile al lavoro giustamente il centro per l'impiego l'ha convocata per vedere se tramite la formazione riesce poi a trovare collocazione nel mondo lavorativo quindi è giusto ed è corretto non è solo per lei ma è per tutti i nuclei che come lei hanno questa situazione va bene va benissimo grazie gentilissimi grazie grazie a lei per averci telefonato e per essere con noi è un po' stata modificata quello che dobbiamo giustamente puntualizzare non è più il vecchio reddito di cittadinanza che si percepisce la misura e non si chiede e non si vuole sapere né che si fa né che si è fatto né se si è mai lavorato né se è la prima occupazione l'Adi è vero che è un sussidio economico dato nel caso in cui c'è il minore il disabile oltre sessantenne ma è pur vero che se all'interno del nucleo ci sono soggetti collocabili al lavoro la formazione va fatta perché è una misura che comunque deve essere di apertura al mercato del lavoro quindi se si forma si danno gli strumenti alle persone e le condizioni per poter poi immettersi nel mondo lavorativo intanto dobbiamo dare la linea alla regia torneremo tra pochissimo eccoci di nuovo in studio stavamo vedendo un po' tutti i bonus che sono in corso di validità per questo 2024 sono davvero tantissimi intanto prima di rispondere a qualche altra domanda che ci è arrivata sul nostro numero whatsapp ritornando alla sanità di prima alle liste di attesa come diceva l'avvocato ci sono i modi per diciamo avere delle visite in tempi ragionevoli quindi non arrendersi io questo volevo dire prima quindi il messaggio che volevo lanciare a tutti i nostri telespettatori quando magari si prenota una visita e ti viene dato il primo appuntamento utile dopo un anno allora rivolgiamoci ad un'associazione di consumatori in questo caso perché fare una visita di prevenzione dopo un anno significa non parla la prevenzione quindi non rinunciamo alle cure perché è un diritto dei cittadini quello della sanità e purtroppo come diciamo spesso è il principale diritto negato a volte quello è il principale diritto negato certo e quindi siccome ancora vige questo sistema per fortuna di tutela del cittadino le visite soprattutto quando uno deve fare prevenzione che sono spostate a mesi naturalmente quello è il discrimine fra la vita e la morte ci sono molte patologie che nel giro di qualche mese evolvono dalla curabilità all'exitus cioè poi non si può fare più niente per cui ripeto per coloro che sono la stragrande maggiormente degli italiani che non possono permettersi di andare in struttura privata o a pagamento naturalmente di non scoraggiarsi e di ecco appunto farsi aiutare ecco nel senso che queste sono le cose perché ci sono i mezzi per limitare moltissimo diciamo questo aspetto delle cure naturalmente e della diagnostica in primis telefonata intanto pronto? pronto? salve da dove ci chiama? da Catanzaro benvenuta prego buonasera grazie ben trovati senta io vorrei chiedere da Catanzaro sì 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 abbiamo capito grazie ben trovata volevo chiedere delle informazioni per un invalido di 84 anni al 100% quali sono i diritti che ha questo invalido? che tipo di invalidità è stata riconosciuta articolo 3,3 invalido? non lo so che tipo di invalidità il 100% con l'indicità di accompagnamento anche? sì anche con l'accompagnamento allora tutti i diritti che derivano dalla legge 104 io spengo il telefono l'ascolto per telefono vorrei sapere tutti i diritti della 104 insomma questo della legge 104 grazie 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 a lei vogliamo allora naturalmente parliamo del diritto ad avere il parcheggio comunque gratuito e riservato sempre naturalmente dopo la compilazione della modulistica che viene fornita dal comune stesso c'è la possibilità quindi di avere per l'invalido il parcheggio diciamo riservato sempre naturalmente apponendo il talloncino che diciamo fornirà l'ente stesso per quanto riguarda l'invalido stesso naturalmente le varie esenzioni per quanto riguarda le visite mediche per quanto riguarda l'acquisto di ausili poi naturalmente bisogna capire anche la tipologia di invalidità per cui naturalmente se è un problema di deambulazione se è un problema a livello psichiatrico naturalmente si possono anche chiedere degli ausili oppure naturalmente l'esenzione per le visite e l'esenzione per quanto riguarda i farmaci e poi naturalmente annessi a questo ci sarebbe anche tutta la serie di benefici che ne possono godere chi se ne occupa del disabile stesso il famoso cargiver e poi naturalmente parliamo dei tre giorni di permesso qualora naturalmente si ha un rapporto di lavoro subordinato sia privato che pubblico oppure addirittura parliamo del congedo straordinario qualora anche ci sia un rapporto di convivenza del disabile all'interno del nucleo del cargiver stesso quindi parliamo dei due anni che si può chiedere di astensione al lavoro per la cura al disabile stesso e naturalmente nel limite dei 24 mesi poi il bollo per quanto riguarda l'auto bisogna vedere il bollo perché sì tutti sostengono che si ha l'esenzione del bollo non è detto questo perché bisogna anche in questo caso verificare che tipo di invalidità si ha e se il bollo è previsto l'esenzione totale o parziale in base alla tipologia di invalidità quindi queste sempre sono delle cose da verificare c'è però è da verificare in base all'invalidità che si ha quindi insomma però sì anche questo anche questo l'iva agevolata sull'acquisto l'acquisto delle auto anche questa da verificare in base al diciamo al telespettatore tranne il care giver però ricordiamoci che i tre giorni mensili chi ne usufruisce non perde niente a livello stipendiale e contributivo i due anni di congedo straordinario perde come contribuzione quindi non prende lo stipendio non prende contribuzione e non vengono calcolati ai fini degli anni di pensionamento per cui si ha solamente l'unico ma è grandissimo vantaggio che per 24 mesi il posto di lavoro è conservato questo diciamolo si è persa anche per quanto riguarda i tre giorni lavorativi al mese l'esclusività perché la persona in stato di svantaggio come il telespettatore ha tre parenti che sono dipendenti naturalmente rimangono sempre le tre giornate però faranno al mese uno 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 non c'è più l'esclusività questa è una notizia buona perché naturalmente in molte famiglie sarà motivo di contrasto me li prendo io te li prendi tu eccetera eccetera però non c'è più tre figli avranno un giorno al mese ecco però sempre il limite sono tre giorni però possono essere si possono dividere tra i caregiver perché spesso insomma non è una sola persona che si occupa del caregiver poi ha una sua vita nel senso che il caregiver può anche prendere un'indennità nel senso che praticamente farà solo il caregiver e quindi diciamo economicamente tra virgolette è come un posto di lavoro a servizio del del disabile del disabile però bisogna andare a vedere soggetto per soggetto pratica per pratica anche non c'è nessun automatismo come diciamo sempre noi faccio la domanda la domandina la domandina si fa per avere un buono pasto tutto il resto no quindi io volevo aggiungere anche sull'esenzione per quanto riguarda il pagamento del ticket sui farmaci quello naturalmente sì no dicevo però se ci sono i farmaci griffati si parla sì però l'esenzione c'è anche per patologie indipendentemente dal 100% di invalidità quindi protocollo terapeutico e diagnostica per le patologie anche se uno è giovane o pensionato con invalidità o senza invalidità eccetera eccetera patologie numerino aspe di competenza che mettono sulla testera sanitaria e lì anche solo per il classico diabete è ovvio che c'è l'esenzione da tutti indipendentemente se uno è invalido o meno giovane o anziano quello è così per tante altre patologie rispondiamo dopo a qualche domanda che ci arriva sul nostro numero whatsapp ce n'è una che vi voglio leggere perché è stata scritta anche in maniera molto simpatica però intanto salutiamo chi è in linea in questo momento pronto? Basta Mario Noi ci siamo signora da dove ci chiama? L'ha venuto poter dire Pronto? La signora sta parlando con qualche amico e è scappata la telefonata Pronto? No sicuramente aspetta di essere collegata in diretta ma glielo diciamo che è in diretta Pronto? Pronto? C'è la telefonata? Allora vediamo se riusciamo a parlare con la signora che ci stava chiamando io questa la devo leggere vi volevo dire ho 63 anni di età 32 di contributi sono un bracciante agricolo ci chiede c'è qualche possibilità per andare in pensione che non ce la faccio più a lavorare sui campi fantastica è meravigliosa questa domanda un abbraccio da parte nostra allora 63 anni di età e 32 anni di contributi bracciante agricolo Allora diciamo che 63 anni di età per quanto riguarda l'APE social diciamo che poi ci sarebbero anche altri requisiti ma già come età non ci siamo perché da gennaio 2024 l'APE social richiede comunque 63 anni e 5 mesi a differenza del 2023 al 31 dicembre era necessario avere 63 anni in più il bracciante agricolo è un famoso operatore OTT operatori a tempo determinato hanno contratti diciamo con scadenza per cui non si hanno nemmeno i requisiti per quanto riguarda l'APE social i 35 anni di età non sono comunque contributivi però bisogna vedere si deve rivolgere perché non sappiamo da la domanda che è un precoce bisogna anche vedere queste però sono tutte informazioni che se la dottoressa non c'è diciamo che bisogna comunque andare ad un patronato perché oltre al requisito anagrafico ci sono poi una serie di verifiche da fare quindi bisogna fare l'estratto contributivo bisogna capire da quando ha cominciato a lavorare cosa ha maturato perché potrebbero anche trovarsi delle diciamo situazioni dove magari si potrebbe andare e si potrebbero bisogna andare al patronato che il bracciante agricolo simpaticissimo perché simpaticissimo vada al patronato perché solo lì si può avere un quadro ben delineato e definito della sua situazione intanto abbiamo una telefonata pronto? pronto salve da dove ci chiama? chiamo da Taverna di Montalto Fugo benvenuto prego grazie ben trovati a voi volevo fare una domanda se è possibile sì certo allora per quanto riguarda c'è un c'è un mio figlio di Sabre su carrozzina sì al 100% praticamente noi andando all'università degli studi della campagna di Napoli dove è in cura mio figlio ci hanno fatto un certificato dove dicono che certificato di diagnosi esenzioni della partecipazione alla spesa per malattie rare ex decreto ministeriale numero 279 barra 2001 però io ogni volta che vado a prendere dei farmaci praticamente li devo pagare quelli che non sono prescrivibili sì giustamente diceva allora premesso premesso che tutti i farmaci sono prescrivibili bisogna andare a vedere il medico curante che cosa vi prescrive perché come dicevamo prima ci sono i farmaci che sono tutti quanti sono prescrivibili parliamo di principio attivo se per le condizioni di salute del beneficiario di vostro figlio indipendentemente da quello che è principio attivo serve proprio quel farmaco griffato griffato o meno allora lì bisogna alla nostra ASP all'ASP di competenza far presente che quel farmaco proprio quel farmaco ha ha benefici perché avrà un'adjuvanti in più perché sarà meglio assorbito indipendentemente dal principio attivo che serve proprio quel farmaco perché se è esentato non è che quelli che non sono ecco voi qualcuno lo pagate o siete esentati o meno se proprio c'è bisogno ripeto di quel farmaco e quindi non dell'equivalente ma proprio di quel farmaco allora l'ASP di competenza che se ne fa carico nel senso si bisogna farlo presente all'ASP di competenza non certamente da chi ha fatto la la diagnosi ha fatto quella dichiarazione perché mi sembra che sia regione campagna siccome tutta la spesa sanitaria è regionale è per aziende sanitarie provinciali è ovvio che il telespettatore il suo riferimento è l'ASP di competenza di dove è residente ovvio va bene non so se è ancora in linea no allora questo insomma far presente all'ASP di competenza che ho capito grazie di informazione quindi devo fare riferimento alla nostra ASP sì però innanzitutto al vostro medico chi vi prescrive andando a dire ma questo che mi avete prescritto poiché c'è un farmaco equivalente nel senso come principio attivo generico diciamo generico ma il principio attivo uguale ha la stessa efficacia in termini di risultato di cura o no il medico curante si dice no non non il principio attivo ma proprio questa marca di farmaco è quella che ha migliori risultati allora sulla base di questa certificazione si fa all'ASP di competenza che praticamente provvederà a farvi una certificazione qualunque altra cosa per la esenzione dal farmaco se non anche se non è equivalente quindi principio attivo uguale però il vostro medico queste cose le fa benissimo insomma va bene spero siamo che sia tutto chiaro grazie comunque per aver telefonato anche qui che c'è non c'è un automatismo ma chi ha bisogno di cure no può essere un esperto in amministrazione sanitaria che deve eventualmente andare a correggere il medico di famiglia no questo farmaco lo devi segnare e quest'altro no ha bisogno di salute quindi non deve avere i problemi come il telespettatore che comunque sono i farmaci prescritti che deve andare a pagare se è in esenzione anche questa è una struttura sì sì ma infatti cioè non è che il cittadino normale che magari fa tutt'altro lavoro deve andare ecco essere esperto no in farmacopea cioè quello sì quello no quello è equivalente quello non è equivalente come principio attivo non scherziamo ma non scherziamo ma anche chi ha l'esenzione per patologie oppure per immunità ha esenzione finito vuole andare ad acquistare però se prende il farmaco griffato paga ma non lo prende è sempre dietro prescrizione per cui non è lui che si auto fa la rigetta però se vai dal farmacista dice quello originale oppure l'equivalente e il paziente che ne sa che ne sa quello purtroppo è sempre lì allora rispondiamo a qualche altra domanda che ci arriva sul nostro numero whatsapp percepisco pensione IO scritto così a gennaio 2025 andrò in pensione anticipata di vecchiaia per patologia perderò il diritto a questa pensione? allora no non si perde il diritto perché si subisce una trasformazione nel senso che l'una e l'altra si diciamo ricongiungono quindi sia quella di vecchiaia che quella naturalmente dovuta all'assegno di invalidità a livello contributivo quindi diventa un tutt'uno quindi non si perde il diritto ma si ingloba una con un'altra rispondiamo anche a Roberto da Cosenza dice mia figlia frequenta la prima media e quest'anno abbiamo speso oltre 300 euro di libri scolastici ho diritto al buono libro ma tutt'oggi il comune non ha erogato nulla e tra poco le scuole finiscono e non si sa quando pagheranno giustamente dice è possibile che quando il cittadino deve avere dei soldi dal comune non può fare nulla mentre il comune per riscuotere i suoi crediti pignora tutto e tutti ha ragione il problema è proprio questo è che la famiglia il nostro telespettatore Roberto siccome questi buoni vengono dati dopo che uno spende e se non avevi i soldi questo qua per comprare i libri alla figlia che faceva è finito l'anno quindi andava a memoria tutto l'anno e comunque ancora non sono stati fra virgolette rimborsati effettivamente sono dei buoni impostati male sono dei buoni impostati male e i ritardi naturalmente non si può pagare quando siamo arrivati praticamente a giugno fra poco e la scuola è finita e infatti si pensa adesso al bonus vacanza infatti ci chiamano del bonus vacanza la scuola ormai è finita allora intanto salutiamo chi è in linea poi parleremo anche del bonus vacanza è pronto? pronto? salve salve buon pomeriggio buon pomeriggio pronto buon pomeriggio salve complimenti per la trasmissione perché è una bella trasmissione comunque si abbassa il volume del televisore gentilmente così riusciamo a sentirci senza l'eco e quindi abbiamo difficoltà poi a capire allora intanto da dove ci chiama? si allora chiamo da Cosenza benvenuto prego le volevo chiedere gentilmente che io allora chiamo per il supporto formazione lavoro si allora dunque in pratica sto frequentando un corso di formazione a Cosenza in via Popilia da tre mesi e mi stanno pagando regolarmente perché io frequento questo corso ok ora invece però non capisco io sto ancora frequentando il pagamento l'imbis l'ha interrotto il mese di marzo e quindi non ho capito perché c'è questa difficoltà che mi hanno interrotto il pagamento quando io invece sto regolarmente frequentando il corso facendo tutto tutto quello che mi dicono lavorando operando nel settore del giardinaggio e allora mi viene da pensare se lei abbia comunicato al centro per l'impiego questa formazione che lei sta facendo perché non vorrei che si tratti di una mancanza di comunicazione tra chi ha elaborato la domanda e il centro per l'impiego che le deve fare un po' da tramite lei è andata al centro per l'impiego ha verificato la sua posizione ha detto che ha iniziato la formazione perché se lei è in corso di formazione e le hanno bloccato la misura significa che c'è qualche adempimento diciamo di burocratico che magari non è stato fatto perché magari se lei non ha rifiutato se lei è in corso e ha fatto tutte le profilature il curriculum il patto di attivazione digitale non può avere il blocco della bisogna comunque immediatamente segnalarlo io le consiglio di rivolgersi al patronato dove ha fatto la domanda per fare una pecca all'impis e chiedere il motivo per cui essendo informazione e facendo tutti gli adempimenti del caso perché le hanno bloccato il sussidio in modo tale da capire quello che manca ed esibirlo immediatamente va bene non so se è ancora in linea lei l'ha fatta tramite patronato questa domanda l'ha fatta in autonomia con il sussidio come l'ha fatta tramite patronato però sono anche all'impis hanno detto che io sono tutto regolare solo che non so perché il mese di marzo non mi è stato pagato perché io sto frequentando regolarmente la scuola le presenze vado al patronato dove ha fatto domanda lei chiede espressamente di verificare se c'è effettivamente un blocco e fare magari una pecca all'Inps l'Inps risponderà al patronato e così verrà esibita magari la documentazione qualcosa che naturalmente l'Inps non ha trovato come regolare e in via preventiva le ha bloccato naturalmente il sussidio questo deve fare al suo patronato dove ha elaborato la richiesta va bene così almeno si capisce che è successo bisogna capire che cosa manca va bene va bene grazie la ringrazio grazie grazie a lei un abbraccio da parte nostra allora ci chiedono come soffrire del bonus vacanze perché questo è uno dei bonus del 2024 bonus vacanza per quanto riguarda pensionati pubblici Inps non per quanto riguarda il vecchio bonus vacanza dato nel periodo Covid non ci sono diciamo informativi in merito a questo bonus qui quindi se magari qualcuno ha verificato su internet bonus vacanza si parla del bonus che hanno diritto pensionati pubblici Inps e quant'altro ex poste ma non parliamo se qualcuno pensa al vecchio bonus dato nel 2020 nel periodo Covid di 500 euro per chi aveva più di tre componenti del nucleo familiare 300 euro per chi erano in due persone 150 euro per chi era persona singola quindi non è quello no allora abbiamo un minuto siamo in chiusura allora ci chiedono vorrei sapere se il bonus acqua in bolletta è riconosciuto perché stamattina mi sono legata al caff e mi è stato detto che non vi è l'esistenza di un bonus simile in effetti non c'è un bonus acqua bonus acqua riconosciuto direttamente in bolletta no però si può andare con il modello Ise attestato al proprio comune di residenza al reparto servizi sociale capire se ci sono degli sgravi dei bonus riservati per chi ha un Ise endo determinati limiti per quanto riguarda bolletta acqua e bolletta tari parliamo dell'immondizio e su questo dobbiamo chiudere siamo fuori tempo massimo il tempo a nostra disposizione è terminato io come sempre ringrazio la dottoressa Mariella Ippolito grazie a voi grazie al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero in regia credo oggi Enzo Leonetti Massimiliano Fino e Fabrizio Maglia dovrebbe essere ci ringraziamo i nostri telespettatori l'appuntamento come sempre è per la prossima settimana rivederci Grazie a tutti